ma tu hai provato in mezzo a roma coi tram qualche ufficio l'arcivescovo sequestro si è messo a prendere dei ben finanziamenti ho messo fino a che ora state qua jasmiani rioffese il nudista giacci bisacci luisa che ci vuole premere il seno contro la sua impronunciabile mentre tutto volume cantava e durandurava bisaccia ogni tanto quindi mette luisa questa cazza di fiamma accese nel peso spieghiamo alla figlia che calza mette io mica faccio gli sciampi e gorilla ma si quando ho le fans sono fatte io sono un'avida videofica chi cazzo è questa persona immagina se qualcuno guarda sai che fa ti squaglia quando lo metto mi scopa è l'unica cosa buona di questo paese ragazzi voglio uscire da qua sei in arresto forse